Eccoci qui come promesso con il video sulla gestione della memoria in diversi linguaggi di programmazione per capire cosa significa questa benedetta memory safety, cosa sono, cosa vuol dire che un linguaggio è memory safe, un linguaggio è memory unsafe, qual è il problema nella gestione della memoria. Bene, vi faccio alcuni esempi, ve li disegno, anzi uso una lavagnetta elettronica, così possiamo andare a vedere bene i disegnini che aiutano a voi magari a capire, a me, a spiegare meglio un concetto e così cerchiamo di capirci meglio. Secondo me è un video che potrebbe essere, diciamo, adatto un pochino a tutti, a quelli che sono entrati in informatica adesso, a quelli che ci lavorano da un po' ma non hanno mai troppo approfondito i concetti teorici dietro la gestione della memoria e anche a chi sono anni che lavorano ma alla fine si sono scordati queste basi di informatica che magari avevano studiato in università, come poi ho fatto io. E quindi, tra l'altro, premessa, questo video sarà piuttosto semplificato, i concetti saranno semplificati, non scenderò troppo, troppo, troppo nel dettaglio, ma questo non perché non mi ricordo più una mazza dall'università, no, per venire incontro a voi, eh, lo faccio per voi, semplifico così, eh, sono più capibile. No, comunque grazie per aver espresso l'entusiasmo nella mia idea di poter produrre questo video, quindi pensate che io davvero riesca a spiegare bene dei concetti, ma lo vedremo, lo vedremo con questo video. Grazie soprattutto a Matteo che mi ha offerto una birra per poter arrivare a questo video, e vi avevo chiesto, insomma, di darmi un po' di sostegno, me lo avete dato, ma in realtà lo volevo già fare questo video, quindi vi ho gabbati, eh, vi ho gabbati e adesso ve lo cuccate. E guardate che bravo, eh, ho fatto i disegnini, sono bravo, sono venuti bene? No, allora, perché ho fatto sta roba che magari è pure troppo? Spero di no, però brevemente, giusto qualche secondo di introduzione, soltanto per dirvi che quando si parla di memoria nel contesto di un computer, che poi computer vuol dire qualsiasi cosa, no? Perché va proprio dal PC allo smartphone, lo smartwatch, quasi qualunque dispositivo elettronico oggi ha più o meno la stessa architettura, no? Dalla CPU, le memorie appunto, memorie volatili, memorie non volatili, l'input-output, cioè più o meno tutto ha la stessa architettura, addirittura risale all'architettura di Von Neumann, quindi insomma, è così dagli albori dell'informatica. L'architettura è questa. Quindi quando si parla di memoria, in generale ci si sta differendo alla memoria RAM, perché lo so che è così, quando si dice memoria, è la memoria RAM. In realtà, memoria, nel contesto appunto di un computer, è un concetto un pochino più ampio e vi voglio far vedere che cosa di fatto ci si riferisce in teoria quando si parla di memoria, cioè i diversi tipi di memoria. Perché infatti, molto semplificando, se partiamo dalla CPU, che è il cuore del computer, appunto quello che esegue fisicamente le operazioni, qua tra l'altro c'è un'ulteriore semplificazione, qua ho messo una sola CPU, ma in realtà in un sistema moderno ci sono più CPU, più core, eccetera, ma stringiamo e facciamo finta che c'è una CPU sola. Quindi la CPU è quella che esegue proprio i comandi, quindi le operazioni. E per eseguire queste operazioni ha bisogno di istruzioni e di dati. Ora, entrambe queste cose lui gli arriveranno proprio dalla memoria, ma ci sono vari livelli a cui passano. Il livello più vicino, più piccolino e più vicino alla CPU sono i registri, che stanno proprio nel cuore della CPU e sono delle piccolissime aree di memoria, immaginatevi come delle schedine di memoria da pochi kilobyte, che contengono quindi dei dati molto piccoli, che servono alla CPU per memorizzare magari degli indirizzi, delle piccole operazioni che gli servono molto rapidamente. E la CPU può accedere a questi registri, appunto, in lettura e scrittura molto veloce. Quindi nel corso proprio di un'operazione, quindi dei cicli di clock della CPU, la CPU accederà in lettura e scrittura molto rapidamente a questi registri. Poi c'è un secondo livello di memoria, che è la cosiddetta cache. Qui ho disegnato tre livelli, L1, L2 e L3. In realtà non è detto che siano tre livelli, potrebbero essere di meno, potrebbero essere di più, e peraltro uno di questi livelli, tipicamente il livello L3, è di solito condiviso orizzontalmente tra tutti i core della CPU. Comunque facciamo finta che siamo su una CPU, su un core solo, con questi tre livelli. Quindi, vedete, L1 è il livello più piccolo, L2 è più grande, L3 è più grande ancora, quindi la differenza è proprio in kilobyte, L3 anche arriva a qualche megabyte, e naturalmente più è piccolo e più è anche veloce l'accesso. Quindi sono proprio livelli di cache, vuol dire dove la CPU può mettere le istruzioni che gli servono immediatamente, quindi l'accesso che deve avere più rapido per i prossimi cicli di istruzione, vengono messi nelle cache, nelle varie cache, a seconda del livello di urgenza, di velocità, con cui la CPU ci deve accedere. E questo livello qua, quindi, cache e registri, è quello che viene controllato dall'hardware, quindi dalle istruzioni della CPU, ma anche dal compilatore. Quindi quando avete compilato un software o utilizzato un programma già compilato, ci sono delle istruzioni che permettono al compilatore di ottimizzare l'esecuzione del programma, mettendo alcuni dati in cache e dicendo alla CPU come utilizzare i registri. Ci sono varie istruzioni per farlo, prefetching, per esempio, potete averlo sentito, ma insomma, normalmente voi come programmatori quando create qualcosa non vi preoccupate della gestione di cache e registri, se ne occupa il compilatore, se ne occupa la CPU, salvo ottimizzazioni manuali che si possono fare, ma che nella maggior parte dei casi non sono previste. Comunque, questo non è oggetto del video di oggi, parleremo di memoria intesa proprio come RAM, però per farvi capire che la memoria in realtà è fatta a livello più ampio anche da queste strutture qua, cioè più vicine e più veloci come accesso alla CPU. Poi, guardate che bravo che sono stato a disegnare anche RAM, che naturalmente è molto più grande, la memoria RAM più o meno sapete di cosa si sta parlando, quindi RAM significa Random Access Memory, è una porzione di memoria naturalmente molto più grande, misurata in gigabyte rispetto alla cache, è una memoria che è volatile, nel senso che quando spegni il computer poi questa viene svuotata e viene riempita al prossimo avvio, e l'accesso è abbastanza veloce, naturalmente è più lento rispetto alla cache, ma comunque è un accesso veloce. Questa tipicamente è la zona a cui ci si riferisce quando si parla di memoria, gestione della memoria e quindi anche di memory safety, però come avete visto non è l'unica, peraltro non si finisce qui, perché poi abbiamo questo altro livello di memoria, che è lo storage, memoria fissa, non so come chiamarlo, che io vi voglio mettere, perché intanto è importante, perché è sempre memoria, anche se sta lì, è persistente, ma è sempre memoria. Inoltre qua dentro ci sono intanto i dati, le istruzioni del programma, cioè le istruzioni, disegniamola, disegniamo una cosa così con il blu, ecco, qui ci sono le istruzioni di un programma, quando il programma viene caricato, innanzitutto sta lì, già compilato magari, ma sta lì su un disco, su uno storage, quindi una parte della memoria inizialmente viene occupata proprio dal programma che ancora deve essere eseguito, e poi ci sono magari degli asset, quindi possiamo disegnarli questi così, sono degli asset, vari file o varie cose, che comunque stanno in memoria e servono a programma per l'esecuzione, anche per esempio delle chiavi, una connessione SSH, bisogno di chiavi private, vanno lette dalla memoria fissa, dal disco e stanno lì, quindi è una parte della memoria che comunque serve, ma ve ne parlo non solo per questo, ma anche perché, quando un programma scritto in un linguaggio che consente una gestione diretta della memoria, come per esempio C, C++, con le allocazioni di memoria, i puntatori ad aree di memoria, ecco tutto quello che consente accesso proprio diretto alla memoria, in realtà, quelle non sono indirizzi fisici di aree di memoria nella RAM, ma c'è uno strato intermedio gestito dal sistema operativo che viene chiamato memoria virtuale, questa memoria virtuale la possiamo anche disegnare, facciamo un tratto più scuro, con sfondo bianco, facciamo anche più leggerino, ecco, facciamolo così, questa memoria virtuale, anzi dovrebbe comprendere tutta la RAM, questa memoria virtuale, in realtà, è composta dalla RAM più una parte dello storage, perché? Perché se la RAM viene esaurita, adesso magari con sistemi ad alto, insomma, con tanta RAM non succede più, ma quando avevate sistemi con risorse molto limitate, la RAM veniva esaurita e avvenivano quelle operazioni di swapping o, non so, di paging, con cui parti del software che girava in RAM venivano spostati sul disco e viceversa, quindi in realtà quello che voi vedete o che il programma vede quando gestisce la memoria è una memoria virtuale che poi viene mappata dal sistema operativo su parti di memoria reale o parti di storage a seconda di come deve gestire appunto le sue risorse. Quindi, insomma, questo è il quadro completo della memoria di un calcolatore per così dirlo all'antica di un computer quindi con lo storage la RAM poi la cache e registra la CPU e con questa parte di memoria virtuale che è quello che poi i software vedono quando devono andare a leggere e scrivere. La memoria virtuale tra l'altro è fatta così anche per ragioni di sicurezza, no? Cioè, non possiamo dare a un software accesso diretto a qualunque punto della memoria RAM che potrebbe contenere dati sensibili eccetera eccetera no? dobbiamo avere un pezzo di memoria virtuale in cui il sistema operativo può controllare gli accessi alla memoria. Benissimo ma adesso cancelliamo questo riquadrino e facciamo che ci concentriamo solamente su questa parte qua RAM facendo finta che non abbiamo memoria virtuale non abbiamo storage non abbiamo cache non abbiamo nient'altro abbiamo solo la RAM quindi quando si parla di memory safety si parla di RAM e di gestione della RAM. Ora i linguaggi di programmazione moderni diciamo che utilizzano io classificherei i tre paradigmi principali di gestione della memoria cioè la gestione manuale quella fatta da C e C++ affini quindi con allocazioni dirette della memoria con malloc oppure con new per esempio in C++ poi la gestione semi-automatica della memoria fatta da linguaggi considerati memory safe come Rust per esempio e poi la gestione della memoria con garbage collector quindi la memoria garbage collected cosiddetta in linguaggi come Java o Go che tipicamente funzionano con una virtual machine ma non ci interessa adesso comunque poi vediamo cosa vogliono dire questi tre paradigmi però per adesso sappiate che abbiamo in effetti tre modi diversi di gestire la memoria e il primo modo quindi quello di C Dc++ che vi consente di gestire manualmente la memoria è considerato memory unsafe appunto perché se non state attenti quando scrivete codice se un programmatore non è attento quando scrive un programma di questo tipo beh espone il sistema a rischi per la sicurezza mentre la gestione semi-automatica di Rust e quella garbage collected consentono una gestione più tranquilla più safe che mette al riparo il sistema appunto da questi pericoli comunque indipendentemente dal paradigma di gestione della memoria quando un software viene eseguito più o meno succede sempre la stessa roba naturalmente il software viene compilato per l'architettura di riferimento adesso semplificando diciamo che esiste un'architettura sola non è vero ma facciamo finta che abbiamo compilato per un'architettura sola anche se abbiamo virtual machine eccetera quindi abbiamo un software che è stato compilato quindi abbiamo le istruzioni nel linguaggio macchina di quell'architettura che la CPU può interpretare quindi cosa succede che dobbiamo avere tre strutture la prima struttura deve contenere le istruzioni proprio il testo proprio le istruzioni del programma l'abbiamo visto che le abbiamo qua nello storage possiamo fare così possiamo copiarla e metterla a memoria perché quando il programma viene eseguito viene messa in memoria e viene dedicata un'area di memoria appunto al testo alle istruzioni di quel software quindi una parte della memoria viene allocata viene data alla parte di testo di questo programma poi quella parte lì di memoria viene riservata nessuno ci può più accedere e quindi non ci interessa però sappiate che insomma c'è questa area che definiamo l'opacità è troppo bassa così definiamo text mettiamo qua come mai non posso più spostarlo eccolo qua mettiamo qui questo è il testo poi l'altra area di memoria invece che facciamo in arancione con riempimento no ecco facciamo così più o meno questa area qua è un'area che invece serve al programma durante la sua esecuzione ed è quella a cui il programma può accedere quindi un software quando viene eseguito ha quest'area a cui può accedere anche questa è divisa in due parti poi lo vediamo io qua ho cercato di non occupare tutto lo spazio della RAM perché naturalmente la RAM deve contenere tanti programmi in esecuzione quindi naturalmente la scala non è esattamente questa una piccola parte viene riservata al programma ma insomma questo è più o meno quello che possiamo vedere questa area di memoria riservata gestita e quindi data dal sistema operativo al software viene divisa in due parti e le due parti sono queste le facciamo una in verde con un tratto così vuoto ecco qua questo questo viene definito stack mettiamo il testo qua così però in nero stack eccolo e poi abbiamo quest'altra che metteremo in quel sfondo va bene così ecco questo teniamolo qua dovrebbe capirsi bene ecco questa è un'area che viene definita invece ip eccolo qua madonna non sono in grado di spostare le cose ora qual è la differenza allora intanto lo stack è una parte di memoria allocata staticamente all'inizio della questione del programma viene allocata questa area di memoria è statica non può crescere la dimensione è fissa e rimane quella viene chiamato stack perché è effettivamente gestito come se fosse una pila stack significa pila in inglese come una pila di piatti quindi con logica di accesso e lettura di dati last in first out esatto cioè immaginate quindi di avere una pila di piatti l'ultimo piatto che mettete sopra è anche il primo che potete sfilare che potete prendere non potete appunto sfilare un piatto dal mezzo dello stack potete prenderlo da sopra quindi l'ifo quindi l'ultimo last in first out è il primo che prendete insomma questa è la logica dello stack quindi si può soltanto mettere dati impilare dati uno sopra l'altro e poi prenderli così da da quest'ordine insomma da quello più in alto a quello più in basso cosa succede? quando un programma esegue una funzione quindi immaginate che avete l'esecuzione della funzione la funzione cos'ha? i suoi argomenti quindi i parametri della funzione e all'interno dichiara i suoi valori le sue variabili benissimo questi argomenti della funzione e questi variabili sono tutti dati che devono essere messi nello stack che fanno parte dello spazio di esecuzione di quella funzione quindi disegniamoli disegniamo così in verde perché la pila è verde mettiamo uno sfondo verdino e anche così vediamo se sono in grado di fare una cosa simpatica ecco facciamolo pieno ecco pieno questo è un punto è un valore che viene messo impilato sullo stack di una funzione immaginate una funzione che ha un parametro ecco viene messo questo parametro qua sullo stack passato alla funzione poi se la funzione dichiara al suo interno due variabili benissimo le impiliamo qua sullo stack altre due variabili questa era tutta la funzione poi la funzione termina eccetera quindi la funzione ha messo tre valori nello stack e questo adesso lo disegniamo anche così questa area defini questa area aspetta questa ho sbagliato rifacciamo questa area che definiamo così con scarsa opacità e con questo tratto ecco questa è l'area opacizziamo un pochino di più si capisce penso di sì questa è l'area ripeto dell'esecuzione della funzione questa area viene definita frame lo scriviamo scriviamolo frame un pochino più opaco spostiamolo in su non sono in grado questo è il frame frame mettiamolo qua frame va bene frame quindi la funzione inizia ha il suo frame c'ha dentro le sue cose perché è importante che ci siano i frame perché poi avete altre funzioni no? perché poi parte un'altra funzione mette i suoi valori qua su quindi voi poi dovete tornare al frame precedente quando la funzione termina eccetera cioè se da una funzione aprite branchate con un'altra funzione ecco viene creato un nuovo frame con dei nuovi valori ora al compilatore poi serve sapere dove inizia un frame un nuovo frame e questo indirizzo sullo stack per dire dove inizia un frame si chiama frame pointer lo scriviamo frame frame pointer e poi è un nome che si sente è un nome oggetto di varie di varie ottimizzazioni anche ultimamente se ne è parlato in ambito di kernel linux adesso non è che ci interessi particolarmente è solo per fare il fig è solo perché così adesso potete fare i figli e dire che lo sapete insomma questo è il frame pointer quindi tac punta a questa roba qua con con questo con questo tratto molto bellino non si può fare più piccolo così grosso stiller lo ho messo piccolino vabbè facciamolo così ah ma lo spessore ok eccolo qua questo è il frame pointer quindi punta all'inizio del frame e con i suoi valori perfetto quali sono i valori che vengono messi qua nel frame beh sono valori interi che hanno una dimensione fissa e possono quindi essere allocati come parte fissa di memoria vi ricordo che lo stack ha una dimensione fissa e non superabile quindi non possono essere accumulate tante funzioni all'infinito perché a un certo punto poi lo stack finisce e se lo stack finisce il programma va in crash avete quegli errori di stack overflow ecco e il programma fallisce ma naturalmente quando una funzione termina e ritorna e ritorna al suo valore appunto non ha più bisogno delle variabili interne alla funzione ecco lo spazio che la funzione occupava sullo stack viene naturalmente liberato ecco perché la string face out perché quando naturalmente le funzioni terminano gerarchicamente prima termina l'ultima funzione chiamata e poi tornando indietro terminano tutte le altre quindi è naturale che la logica sia questa termina la funzione si libera l'area di memoria di quella funzione e poi si torna indietro a ritroso fino a liberare tutte le aree precedenti ritornando i vari valori questo segue l'ordine delle callback del vostro flusso di esecuzione benissimo ora qual è il problema? adesso cancelliamo questa roba che non ci servono più tipo il frame pointer questa riga inutile e questo togliamo anche questo benissimo ora cosa succede se dobbiamo mettere in memoria un dato che ha una dimensione dinamica appunto che può variare abbiamo bisogno di un certo quantitativo di memoria appunto non fissa quindi una struttura dati che non ha dimensioni fissa per esempio un oggetto un array non è che tutti gli array hanno la stessa dimensione abbiamo dimensioni variabili una stringa eccetera benissimo quindi abbiamo delle strutture dati che hanno dimensioni variabili non possiamo mettere sullo stack naturalmente perché lo stack accoglie soltanto strutture con dimensioni fisse quindi abbiamo bisogno di un'area di memoria che tra l'altro è ad allocazione variabile dinamica e quindi questo è lo heap dinamica nel senso che questo può crescere e diminuire man mano che noi ci buttiamo dentro dei nuovi oggetti noi programma ecco questa può crescere e diminuire sempre secondo dei limiti stabiliti dal sistema operativo ma insomma siamo più dinamici quindi cosa succede quando noi creiamo il nostro bello oggettino il nostro bell array adesso lo facciamo così con uno sfondo giallo intero vediamo come viene boom bello però tratto così ecco questo è il mio oggettino creo un oggettino di queste dimensioni e lo sbatto lì nello heap ma naturalmente quando creo un oggetto nel flusso di esecuzione del programma lo assegno a qualcosa cioè faccio la mia variabile e con vabbè un puntatore in c o non è importante adesso proprio il linguaggio facciamo conto che ho una nuova variabile creo un oggetto facciamo un new come c++ o anche in java eccetera facciamo un new con new creiamo un nuovo oggetto benissimo quindi cosa è successo che qui abbiamo creato una nuova variabile che punterà a quell'oggetto quindi abbiamo un'altra volta la freccia vediamo se riusciamo a farla decente stavolta facciamola opaca ecco puntiamo bah si fa un po' schifo vediamola così insomma questa è la variabile che punta a quell'oggetto vabbè chiamiamolo puntatore no perché in c abbiamo i puntatori eccetera benissimo qua puntiamo a questo oggetto quindi abbiamo questo riferimento tra la variabile che abbiamo sbattuto sul nostro stack e l'oggetto che invece abbiamo messo nello heap però naturalmente andando avanti facciamo finta che intanto l'esecuzione del programma va avanti quindi boh dobbiamo creare un nuovo oggetto questo oggetto è più grosso è così che ne so adesso non sto a fare le nuove fatte bene quindi a quel punto verrà creato un nuovo un nuovo puntatore quindi a quel punto verrà creato un nuovo oggetto messo qui con la sua bella freccina che per stavolta ho copiato ecco così faccio faccio prima e quindi viene creato un nuovo riferimento eccetera ah naturalmente le cose sono anche complesse perché poi possiamo anche assegnare lo stesso oggetto lo stesso puntatore a due o più variabili quindi possiamo comunque avere un altro no sbagliato quindi potremmo avere un'altra freccia che boh parte da qua e arriva qua tenendo facendo in questo modo così avremo due riferimenti anzi guarda forse così è ancora più chiaro avremo due riferimenti allo stesso oggetto vabbè questo per rendere le cose ancora più complicate e attenzione che queste sono le parti di memoria delicate perché qua potrebbero esserci dati sensibili faccio un esempio classico che abbiamo visto negli ultimi incidenti di sicurezza quello di OpenSSH che magari deve caricare in un certo momento della sua esecuzione le chiavi private dell'utente quindi fate conto che qua dentro potrebbero esserci secret dei segreti quindi queste sono informazioni sensibili normalmente il sistema operativo è sufficientemente furbo da non consentire a qualunque altro programma di andare a leggere quell'area di memoria lì anche perché vi ripeto che c'è la memoria virtuale che non consente di andare ad accedere esattamente a un punto della memoria quindi ora per fare una confusione cancelliamo questa voi vi aspettereste che quando la funzione che ha creato questa variabile con il puntatore questo secret termina oppure questa variabile viene cancellata ecco vi aspettereste che anche il secret a cui questa variabile puntata venga cancellato beh non è così nei linguaggi con la locazione manuale della memoria non è così il programmatore il codice deve esplicitamente dire al compilatore l'esterno operativo insomma di liberare quest'area di memoria in un'operazione che possiamo chiamare free perché si chiama free in C o delete in C++ eccetera va bene quindi è un'operazione che fisicamente va ecco perfetto questa area di memoria viene bam cancellata ma soltanto se il codice lo richiama esplicitamente altrimenti rimane qua adesso non è che rimane esattamente qua normalmente viene cancellata nel flusso di esecuzione altrimenti poi ci sono degli errori comunque vengono segnalati però l'esecuzione di un software non è così lineare come ve l'ho descritto io cioè non è che ci sia una funzione che banalmente continuiamo a leggere un flusso continuo di istruzioni e di callback che è facile ricostruire e tornare indietro dall'ultima chiamata fino alla prima se fosse tutto così lineare sarebbe semplice in realtà non è tutto lineare perché ci possono essere race condition all'interno di un sistema avvengono cose in maniera asincrona ci sono i thread ci sono varie possibili situazioni in cui il flusso di esecuzione di un software non è prevedibile non è sempre prevedibile o comunque degli edge case che non avevate previsto e che portano l'esecuzione di un programma in un dato momento a terminare o magari crashare o magari di ritornare senza aver richiamato quella parte di codice che si preoccupava di svuotare di liberare quest'area di memoria e se questo succede allora l'area di memoria rimane rimane riempita con quei dati rimane scritta con quei dati e se questo succede quando il programma termina la sua esecuzione potrebbe aver svuotato il suo stack cancellato magari altri elementi sullo heap ma questa area di memoria potrebbe essere rimasta piena di dati sensibili perché magari per il sistema operativo quest'area è di nuovo allocabile quindi può di nuovo darla a un altro oggetto per un altro programma un altro array nuovi puntatori però i dati rimangono scritti appunto dati sensibili che c'erano in precedenza quindi un attaccante appunto con un software scritto ad arte che si infila in un punto preciso del workflow di esecuzione di un software potrebbe andare esattamente a leggere quest'area della memoria o a scrivere in quest'area della memoria nel caso in cui magari si sappia che qui c'è il puntatore a un altro eseguibile a un file sul disco sostituirlo con il proprio file e farlo quindi eseguire al suo posto insomma può fare varie operazioni strane con la memoria sapendo che questa parte non è stata adeguatamente liberata quindi in questo caso non siamo al riparo ecco perché non siamo safe dal fatto che questa memoria sia realmente protetta sia realmente sicura e questo ripeto avviene nel caso di linguaggi come C C++ dove c'è una diretta gestione della memoria con i puntatori e con allocazioni deallocazioni di memoria quindi liberazioni di memoria che devono essere gestite manualmente in un linguaggio invece come Rust dove la memoria viene gestita in modo semiautomatico quando viene creato un nuovo oggetto e viene assegnato proprio a una variabile a un nome ecco quando questa variabile viene cancellata l'oggetto viene distrutto automaticamente Rust si occupa di cancellare anche la memoria quindi in questo caso c'è la caratteristica memory safety di Rust perché ogni volta che il compilatore vede che non abbiamo più riferimenti a un'area specifica di memoria ebbene quest'area viene cancellata e quindi non incorriamo più in quei problemi di memory safety non dobbiamo gestire manualmente non dobbiamo preoccuparcene noi sappiamo che Rust in questo caso o altri linguaggi con queste caratteristiche si occupano di liberare la memoria per noi quindi abbiamo una responsabilità in meno come programmatori Rust ci dà questa sicurezza in più ecco perché c'è il richiamo anche di esperti di security di utilizzare il più possibile questo tipo di linguaggi perché ci danno responsabilità in meno ci automatizzano dei processi come questi e quindi ci mettono a riparo proprio da errori che espongono poi come abbiamo visto delle secret o lasciano comunque esposte le memorie che non dovrebbero rimanere esposte al riuso ecco a vulnerabilità chiamata appunto di riuso di acquistare di memoria posto un po' è là che magari si capisce meglio comunque questo era Rust quindi abbiamo visto C++ gestione manuale della memoria allocazione dell'allocazione puntatori eccetera rifacciamo un puntatore tac così ma perché è così non sono capace la punta vabbè questa è l'area di memoria comunque appunto allocazione manuale poi c'è il Rust allocazione dell'allocazione automatica ce ne preoccupiamo molto di meno e poi avevo detto inizialmente che c'era quest'altro paradigma dei garbage collected il garbage collector è una caratteristica di alcuni linguaggi come Java come Go sono linguaggi che implementano questo algoritmo appunto detto garbage collector che quando non ci sono più riferimenti all'area di memoria la pulisce quindi effettivamente va a fare a raccogliere rifiuti esattamente perché i rifiuti cosa sono i rifiuti sono tutti quei dati tutti quei dati all'area di memoria che non hanno più puntatori quindi facciamo conto che qua abbiamo un'altra area di memoria così con questo puntatore non nero poi c'è questo che invece punta qua nero benissimo e abbiamo aspetta un frame pointer però lo mettiamo con sfondo bianco con il trattino abbiamo un frame pointer così facciamo conto che siamo in questa funzione quindi una funzione che abbiamo richiamato una callback a questo punto la callback ritorna ci dà un dato e togliamo dallo stack perché non abbiamo più valori in quella funzione che nel frattempo aveva istanziato questo nuovo oggetto quindi ritorniamo da quella funzione viene cancellato il puntatore a quell'oggetto la variabile che puntava a quell'oggetto siamo in questo frame quindi e a quel punto gestiamo l'esecuzione in quest'altro frame in quest'altra funzione siamo ritornati indietro riprendiamo il flusso di esecuzione del software dal momento in cui la callback ha ritornato benissimo quando il garbage collector gira fate conti che sia qualcuno che va a vedere tutti gli oggetti che stanno sullo heap e conta il numero di riferimenti se trova un oggetto sullo heap che non ha riferimenti quindi con il contatore dei riferimenti a zero semplicemente lo cancella in realtà non è sempre così alcuni garbage collector semplicemente lo marchiano così lo marchiano per la cancellazione e poi a un secondo giro lo cancellano oppure lo cancellano subito a primo giro insomma dipende poi da come è implementato il garbage collector fate conti comunque che quando passa questo garbage collector che è un processo che avviene automaticamente ogni tot il garbage collector passa poi mi sembra che in alcuni linguaggi come in java si possa anche invocare manualmente la pulizia ecco l'avvio del garbage collector però normalmente avviene automaticamente ogni tot lui gira controlla tutti questi oggetti controlla questo vede che c'è un riferimento che è questo qua lo lascia lì controlla questo vede che non ci sono più riferimenti quindi è zero il totale dei riferimenti a questo oggetto benissimo ma cosa fa? lo marchia per la cancellazione oppure direttamente bam lo cancella quindi il garbage collector anche lui ci dà una sicurezza nella decisione della memoria perché appunto va a ripulire a cancellare tutte quelle aree che non hanno più appunto puntatori non hanno un numero zero di puntatori vi faccio vedere esempi espliciti in codici di vari linguaggi dai che così vi divertite naturalmente mi sono scritti prima non sono mica scemo quindi facciamo pam questo qua guardate che bello più opaco magari possiamo metterlo in carattere così ma che brutto questo beh questo è più bellino va bene facciamo tenerlo così ecco madonna in blu in verde in blu in giallo in blu dai ok ah questo che linguaggio è? siete capaci di di siete capaci di trovare trova il linguaggio che linguaggio è questo? dai è facile questo è facile uno due tre lo dico io questo è c scriviamolo c madonna l nero ecco questo è c non sono proprio bravo io come grafico ok questo lo mettiamo lo mettiamo qui quindi questo è c cosa succede in questa semplice funzione? succede che viene creato il puntatore a un array che è un array di interi vedete che è a cui viene allocata un'area di memoria di dieci interi che cos'è la funzione che alloca la memoria? è la malloc una funzione appunto che dice al ac di allocare possiamo allocare diamo a questo puntatore un'allocazione di memoria di dieci interi quindi in questo caso qui ci sarebbe questo ar che è definito con questo asterisco perché è un puntatore convenzione di c ma lasciamo perdere questo è il puntatore ar quindi qui c'è ar a questo punto viene punta a questo array che è di dieci interi quindi la malloc serve per allocare questo array a questo punto qui utilizziamo l'array facciamo cosa con l'array quando smettiamo di usarlo chiamiamo free free come vi ho detto cancella quest'area di memoria e poi ritorniamo ora se fosse così tutto bellissimo no? facile liberare la memoria in realtà qua dentro può succedere il demonio cioè possiamo creare funzioni thread processi il sistema può essere può cambiare nel far tempo un bordello possiamo crashare insomma tutto un bordello qua dentro è il problema non è tanto questo il problema il problema è qua dentro quindi se qua succede qualcosa per cui la free non viene chiamata oppure quando viene chiamata non serve più un cacchio ecco che siamo in una situazione in cui c'è un problema della memoria insomma questo è un po' come possiamo vedere molto semplicemente molto all'osso la gestione della memoria in C vi faccio anche l'esempio C++? dai facciamo l'esempio C++ torniamo con il coso ecco qua boom madonna piccolino benissimo spostiamolo qui e mettiamo il testo così C++ madonna più più non sono quasi neanche di scrivere più più bravo torniamo così mettiamola in nero e mettiamola più grande bravo spostiamola qua facci vedere ecco questo è C++ signori che vuol dire che anche qua creiamo un nuovo array con la keyword new in questo caso sempre un array di 10 interi qui usiamo l'array qui facciamo chiamiamo quella che in C era free qui è delete quindi cancelliamo l'array stessa cosa questo è ar questo è il puntatore qui dentro c'è l'array metto l'array perché è la struttura di dati più semplice da capire in realtà potrebbe essere un oggetto potrebbe essere una lista quello che vi pare comunque un oggetto con una dimensione non fissa che decidete voi in questo caso 10 interi questo è la sintassi di C++ di nuovo il problema poi sta qua dentro cosa succede qua? ecco tra l'altro posso approfittare qua per parlarvi di uno dei problemi topici della gestione della memoria quindi della memory unsafety di C++ eccetera che è il cosiddetto buffer overflow che è la vulnerabilità più tipica più facile da sfruttare e anche molto pericolosa allora il buffer diciamo che il buffer è quest'area qua che viene allocata per questo array quindi abbiamo allocato un array con 10 interi cosa succede però se andiamo a mettere in questo array una quantità di dati che è superiore a 10 interi adesso qua con gli interi faccio fatica dobbiamo fare un esempio magari con una stringa possiamo fare un esempio con una stringa allora aspetta per esempio qua mi sono scritto questo così ve lo faccio vedere è facile abbiamo un definiamo un buffer di 5 caratteri quindi un array di 5 caratteri in questo caso ora chiamiamo string copy e copiamo in buffer che è il nostro array di 5 caratteri questa stringa questa stringa che è più di 5 caratteri è troppo lunga che succede che abbiamo un errore di buffer overflow perché abbiamo scritto in un'area di memoria che era di 5 caratteri un dato che è più lungo di 5 caratteri e questa roba come può essere una vulnerabilità? eh sì perché se noi qua dentro ci mettiamo questa stringa e abbiamo allocato soltanto i primi caratteri tutto il resto verrà scritto in memoria a caso senza preoccuparsi dell'area allocata quindi andremo oltre l'area del buffer che è stato definito per quella struttura dati e quindi qua dentro potenzialmente ci finisce qualsiasi cosa potrebbe addirittura essere che un'area di memoria adiacente a questa contenente un puntatore che puntava a un altro oggetto per dire possa essere sovrascritta con i dati che vanno in overflow dal nostro buffer quindi un attaccante bravo che sa com'è la struttura della memoria dello heap in un dato momento può sapere dove sfruttare un buffer overflow per andare a scrivere dati in una porzione di memoria che non dovrebbe in quel momento contenere dati quindi questo è molto pericoloso perché poi i dati vanno appunto a finire in quella parte di memoria anche se questo buffer se questo array venisse poi liberato beh anche sovrascrivendolo con degli zeri perché poi una tecnica per liberare la memoria è anche pulirla sovrascrivendola con degli zeri benissimo ma se noi sovrascriviamo con zeri soltanto questo buffer di 5 caratteri tutto il resto rimarrebbe scritto quindi qua dentro potrebbero esserci potenzialmente dei dati corrotti che sfruttati dall'attaccante poi possono servirgli per eseguire appunto quei famosi pezzi di codice da remoto quelle RCE e questo è molto pericoloso in effetti è una vulnerabilità che è tra le più note ma è anche tra le più sfruttate quindi è quella che si trova più spesso quando si vanno a verificare appunto incidenti di sicurezza spesso a basso livello come nei firmware dei router eccetera sono problemi spesso di questa natura qua e poi già che abbiamo parlato di una vulnerabilità tipica ve ne cito un'altra che è la use after free anzi guarda scriviamola di nuovo in blu con questa roba in piccolo boom pa così aspetta rimettiamo ecco qui siamo in c++ vedete che c'è questo puntatore questo oggetto viene cancellato con la delete quindi la memoria viene liberata e poi attenzione viene riutilizzato il puntatore precedente per assegnargli un nuovo valore quindi questo è un problema di use after free viene acceduto quel puntatore all'area di memoria e gli viene messo un nuovo dato quindi questa è un'altra vulnerabilità noi stiamo andando a scrivere in un'area di memoria che dovrebbe in realtà essere liberata quindi stiamo accedendo a una parte di memoria che dovrebbe essere liberata e anche qui potrebbe esserci un problema di esecuzione di codice da remoto arbitrario ma non solo poi qua potremmo avere anche un crash del software naturalmente quando non sappiamo in che è stato alla memoria comunque dei comportamenti ecco una cosa da considerare è anche che in tutti questi casi qua possiamo avere dei comportamenti inaspettati inattesi e quando siamo in una situazione di un comportamento che non possiamo controllare ci esponiamo a potenziali rischi quindi anche in questo caso è una vulnerabilità che non ci rende safe perché non prevediamo non possiamo prevedere cosa succederà cioè in questo caso cosa succederà quest'area di memoria è libera in teoria cioè il compilatore l'ha marcata come libera però poi viene scritto un dato cosa succede da qua in avanti lo possiamo prevedere è molto complicato specialmente in contesti di esecuzioni sincrone parallele di più thread eccetera quindi anche qua un problema in particolare ve lo cito perché anche questo viene riportato spesso nelle varie vulnerabilità use after free quindi viene usato nella area di memoria dopo che è stata liberata queste sono le vulnerabilità più comuni poi naturalmente non vi ho parlato di un'altra chiamiamola vulnerabilità in realtà è proprio un tema di prestazioni che è quella del memory leak quando abbiamo un memory leak quando non liberiamo hard memoria che non utilizziamo più ma quindi il compilatore quindi il sistema operativo li considera pieni quindi non risfruttabili a quel punto la nostra memoria disponibile si riduce sempre di più e man mano che il programma avanza alla fine niente ci troviamo in crash oppure con prestazioni scarsissime bassissime perché poi il sistema si trova costretto continuamente a spostare i dati dalla memoria ram al disco e insomma otteniamo un sistema inusabile fondamentalmente cioè fate conti adesso facciamo questo quest'altro disegno no così fate conto madonna ecco fate conto che riempiamo quest'area qua poi la riempiamo ancora qua sotto però i puntatori poi non ci sono non ci sono più facciamo che cancelliamo questi puntatori non abbiamo più riferimento a queste memorie però non le abbiamo neanche eliminate per vari nostri problemi o anche per dei bug di altri software insomma nell'esecuzione di questo nostro programma non abbiamo liberato la memoria beh la memoria disponibile diventa sempre meno no cioè questa qua risulta sempre piena sempre riempita ma non possiamo più sfruttarla quindi abbiamo un'area di memoria piccolissima da poter sfruttare appena ci serve un pochino di più ecco che siamo costretti a swappare con il disco o semplicemente andiamo in crash perché abbiamo esaurito la memoria e questo è sfruttato per mandare proprio in crash un sistema se un attaccante sa che ci sono dei potenziali problemi di memory leak in un sistema li sfrutta per fare un denial of service quindi proprio per terminare rendere inusabile quel sistema e vengono sfruttati anche questi quindi attenzione naturalmente lato prestazionale perché più aumentiamo il consumo di memoria specie se andiamo a scrivere software per dei device con poche risorse meno appunto abbiamo un programma prestante e reattivo ma anche al possibile sfruttamento di attaccanti di questa vulnerabilità che poi possono rendere un sistema inusabile quindi questo è il cosiddetto memory leak cioè non liberiamo la memoria che utilizziamo la memoria cresce sempre di più all'infinito pensate la cosa più stupida un ciclo while infinito con dentro allocazioni infinite di memoria che quindi creano aree di memoria continuamente all'infinito prima o poi naturalmente la memoria esplode e tutto va in crash questo è il cosiddetto memory leak che sia un problema di prestazioni che anche una vulnerabilità di sicurezza perché può rendere l'intero sistema completamente inusabile ora stavo vedendo se mi sono segnato altre cose da dire naturalmente come avevo detto un programma in linguaggio C non può accedere a tutta la memoria fisica ma soltanto a indirizzi particolari insomma un'area di memoria chiamata memoria virtuale che il sistema operativo gli concede e quindi non è qualsiasi punto della RAM ma è un'area specifica però ci sono ecco ci sono dei processi che vengono eseguiti con privilegi altissimi che sono magari proprio all'inizio al bootstrap di un sistema operativo vengono eseguiti questi processi che quindi hanno privilegi altissimi e accedono ad aree di memoria o per esempio i driver di un dispositivo ecco anche i driver di un device e questi possono avere accesso più riservato ecco più privilegiato a aree della memoria in cui il normale software non potrebbe accedere qui in questo caso siamo a ulteriori livelli di problematicità ecco con accesso alla memoria che devono essere ancora più che sono ancora più delicati insomma cosa ho detto beh curiosità sullo stack nei sistemi Unix like di solito lo stack è dimensione fissa 8 megabyte però questa roba può essere anche definita dall'utente dal compilatore con dei flag tipicamente però insomma diciamo che la dimensione standard di uno stack unit dovrebbe essere 8 megabyte da quello che mi sono trovato su Windows invece per esempio è di un megabyte la dimensione per definita dello stack ma insomma lo IP invece vabbè parte molto piccolo e poi cresce dinamicamente a seconda delle necessità del software poi con dei limiti tipicamente imposti dal sistema operativo oppure anche senza limiti insomma poi dipende dai appunto dei sistemi operativi e il limite in realtà vero è il limite proprio della memoria virtuale del dispositivo del sistema operativo questo è proprio un parametro del sistema operativo che tra l'altro nei sistemi a 32 bit è molto inferiore rispetto ai sistemi a 64 bit perché con il numero di bit hai un numero maggiore di indirizzi di memoria cioè lo spazio dei tuoi indirizzi possibili naturalmente con più bit diventa maggiore quindi con 32 bit puoi arrivare fino a un tot massimo di indirizzi con 64 bit ne hai molti di più quindi insomma la memoria virtuale nei sistemi 64 bit è molto superiore ci sono alcuni runtime come Java che permettono di specificare le dimensioni iniziali e massime per l'OIP questo ve lo dico così come curiosità poi naturalmente l'OIP può essere frammentato cioè il problema è della frammentazione vedete qua ho questa struttura di allocazione di dati di aree dell'OIP fate conto che magari noi cancelliamo questo perché questa aree viene liberata queste invece rimangono così magari anche più piccoline abbiamo questa parte quindi vedete che in questo caso la memoria è frammentata non abbiamo aree contigui fate finta che queste e queste sono aree non contigue di memoria ecco se invece ci serve un'allocazione di queste dimensioni qua siamo fregati non possiamo metterla qua facciamo più grande così vedete non possiamo metterla qua non possiamo metterla qua insomma abbiamo un casino di frammentazione che potremmo aver risolto rispostando come Tetris l'area di memoria alcuni compilatori poi si occupano di deframmentare l'OIP quindi risistemando l'area di memoria in modo da consentire un uso più ottimizzato ecco di questo spazio beh allora secondo me ho detto un po' tutto quello che può servire per una introduzione ecco per diciamo una lezione zero di un ipotetico corso sulla gestione della memoria di un linguaggio di programmazione moderno su come un sistema moderno gestisce la memoria sarebbe poi interessante discutere di altre cose di altre problematiche di sicurezza di diversi tipi di gestione di questa memoria addirittura di come funziona l'architettura di una cpu a me piace molto anche la teoria dell'architettura della cpu che non è solo naturalmente cpu con questi registri e questa cache ma è tutto molto più complesso durante i cicli di clock una cpu fa certe operazioni che dipendono anche da come è stata disegnata quella cpu sapete che abbiamo oggi due tipi diversi di cpu che sono le architetture CISC di x86 di intel e AMD e le architetture RISC di ARM di RISC5 ecco questi sono instruction set diversi quindi anche i cicli qui le istruzioni della cpu funzionano in modo diverso insomma anche a me sono cose che interessano poi magari interessano a nessuno però mi diverto a pensare che potrei anche espandere queste lezioni queste bellissime lezioni mi atteggio già a maestro massimo supremo maestrone di queste cose in realtà insomma spero di aver fatto un piccolo dono un piccolo servizio per chi magari già partiva con poche idee su che cosa fosse questa benedetta memory safety e in questo caso spero di avere così dissipato alcuni dubbi chiarito un po' di cose dato qualche definizione magari ecco un piccolo vocabolario spero di aver dato un piccolo vocabolario questa potrebbe essere la definizione di questo tipo di video un vocabolario adesso quando qualcuno vi dice che ne so IP sapete più o meno a cosa ci si riferisce quando uno vi dirà buffer overflow sapete perché ve l'ho detto io a che cosa si riferisce anche con qualche tipo di vulnerabilità use after free che cosa sono queste cose qua insomma ecco questo era un po' l'intento della lezione aspetta che tolgo questo torniamo al mio faccione che mi diverto benissimo grazie per aver seguito questo video se siete arrivati fino qua eroi perché vuol dire che vi interessa e vuol dire che sono anche stato abbastanza bravo da intrattenervi fino a qui che non è male che non è male spero di essere stato chiaro e di non aver detto delle cazzate soprattutto perché poi non è mica detto che mi si è ricordato esattamente tutto certo ho fatto delle ricerchine non mi sono basato soltanto sui miei ricordi ho fatto delle ricerchine mi sono scritto alcune cose però in generale mi sono basato molto sui miei ricordi universitari e delle cose che ho letto in questi anni quindi spero di non aver detto troppe cazzate però ripeto queste cose le ho fatte in modo super semplice quindi se siete programmatore del kernel linux non venitemi a rompere il cazzo che non ho detto le cose perfettamente giuste su alcune cose lo so probabilmente ho detto le cose imprecise ma spero che i concetti di massima a grandi linee siano corrette e quindi di avere tutti una comprensione migliore di questo tema questa era la gestione della memoria memory safety grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti